Al contrario, uno che scriveva stando in Inghilterra, cioè di macchine ne vedeva un po' di più, ne vedeva il significato sociale, non solo politico delle macchine, cioè Marx, capitale, libro primo, capitolo tredicesimo, capitolo sulle macchine, qui ci sono tutte e due le mosse teoretiche, cioè la mossa che dice la tecnica finché resta in mano al capitale consiste nell'approfondimento dello sfruttamento attraverso l'incorporazione del lavoratore nel capitale fisso, cioè nella macchina. Il lavoratore diventa un pezzo di macchina per cui tutte le abilità si perdono, il lavoratore deve fare soltanto pochi movimenti meccanici appunto, e al tempo stesso, allora, da una parte la macchina è il modo materiale di esistenza del capitale, è il mezzo di lavoro che schiaccia l'operario, è il capitale che si trasforma in macchina. E tuttavia, allora, qui c'è la condizione di lavoro che condiziona il lavoro, e tuttavia, se oggi c'è un regime di fabbrica che è una disciplina da caserma, si parla palesemente di uso capitalistico delle macchine, e si fa capire che si può benissimo pensare, una volta che si sia modificato radicalmente il modo di produzione, cioè il modo di produzione divenga cooperativo, ci sia una strada spalancata per l'uso non capitalistico delle macchine. Altra ipotesi, come vedete, cioè, qui abbiamo che la tecnica è, da una parte, una dimensione centrale dell'esistenza, cioè, però, questa dimensione centrale non è più tecnica, è economica. La tecnica prende senso non da se stessa, non da una condizione positiva precedente che la tecnica distrugge. La tecnica prende senso dall'economia, dal modo di produzione. è molto più sofisticata come analisi. Non c'è più lo scontro con la tecnica. Lo scontro, allora, e qui salta fuori una cosa importante. Tutta la critica della tecnica, a parte Marx, è sostanzialmente antimarxista. Cioè, consiste in una mossa teorica che è questa. Non è vero che la chiave dei problemi, o meglio, non è vero che il problema sia il modo di produttore. No, non è vero. Questa è un'idea socialista sbagliata. O il problema non c'è e stiamo vivendo felici e contenti, oppure se c'è un problema è a monte. Ed è la tecnica. Qui c'è proprio questa. Come il marginalismo tende a distruggere la critica dell'economia politica, così la critica della tecnica tende anch'essa a distruggere la critica dell'economia politica. La questione è ben altra. Questo ce lo mettiamo in testa. Possono dire anche un mucchio di cose sensate, intelligenti, però l'intento è questo. Cioè, di ridicolizzare la critica socialista, marxista, ridicolizzarla come facente è la stessa parte del problema. Perché Marx non è frontalmente contraposto alla tecnica. Non serve. Tipico il discorso di Weber, il discorso di Schmitt. Cioè, dopo tutto sono capitalisti e comunisti, fanno le stesse cose, sono la stessa cosa, stanno al mondo con le stesse idee, semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa. Chi comincia? Quel genio di Nietzsche. Non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi. Vi ho detto però il modo con cui è come è nata e come è stata pensata. Di Nietzsche che le vedeva tutte, le vedeva tutte, umano troppo, qui c'è una serie di citazioni, umano troppo umano, primo volume, pagina 281 della traduzione italiana, noi apparteniamo a un'epoca alla cui civiltà corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà. Breve, sintetico, non c'era una parola da aggiungere, oppure l'epoca del lavoro, la modernità non può non rovesciarsi in inganno greco, meccanico. Il lavoro non è libertà. Che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx, attenzione, che il lavoro per Marx è reificazione adesso, ma non è reificazione per sempre. Qui invece si spazza via tutto. perché il lavoro è dura fatica e se non è dura fatica è meccanizzazione dell'uomo. Nel lavoro non ne va del soggetto, il lavoro non è la via attraverso attraverso la quale il soggetto si soggettivizza. Nel lavoro ne va solo del principio di utilità e basta. Le cose importanti che noi facciamo ne facciamo quando non lavoriamo. c'è tutto dentro amici ci sono i figli dei fiori c'è tutto il novecento tra menti postumi 87 88 quelli che poi vennero chiamati una volontà di potenza l'umanità è un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole volte al massimo scusate l'umanità non c'entra niente noi viviamo in un cito enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo l'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito il mulino che macina se stesso di Novadis automatismo l'orrore della tecnica è che va avanti da solo per questi autori e dunque nella tecnica si realizza la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita cioè la duplicazione del mondo la duplicazione del mondo la si fa con la morale esiste un mondo superiore e un mondo inferiore la si fa con la religione e la si fa con la tecnica ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo perché quando duplichi il mondo tu con la copia ti servi della copia per distruggere l'originale la morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo che di solito sono beatamente immorali la tecnica è la fabbricazione di un mondo due che serve a distruggere il mondo uno e questa è volontà di potenza ma dei deboli ovvero sia è nichilismo passivo cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza concetti perché sei un poveraccio sei travolto da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo ti mangia è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te a tutto ciò contrappone il nichilismo attivo ovvero sia l'oltreuomo quello sì che è un soggetto ma perché non lavora perché fa la guerra perché sfida il destino antiborghese e antisocialista ma non nazista per carità non ci pensava neanche non era un suo problema a parte qualche discrepanza cronologica dico il problema di che cosa sono non gli veniva in mente gli veniva in mente che cosa quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna pensiero di mostruosa potenza filosofare col martello pensiero di mostruosa potenza la tecnica voi vedete è investita della questione dell'essere che cosa è essere è l'oggetto prodotto il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente è l'oggetto prodotto che cosa diavolo è mai è qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza ovvero sia detto in un altro modo la storia chi la fa la fanno gli uomini o la fa la tecnica sono l'oggetto all'oggetto ai i i i i i i i